Allora io ringrazio il Ministro Tajani, anche qui il Ministero degli Esteri e le rappresentanze presso l'Unione Europea e la Nato per l'attenzione che prestano ogni giorno a questo tema, grazie anche all'Ambasciata per il lavoro quotidiano a sostegno della presenza italiana qui in Belgio, un'azione relativamente piccola ma cruciale per la politica, per l'economia del nostro continente. Non dobbiamo accontentarci anche su questo, abbiamo chiari margini di crescita per quanto riguarda le posizioni di vertice, soprattutto all'interno della Commissione e chiaramente voi siete indipendenti dai governi, è un bene che sia così però come dicevo è nell'interesse dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica, è nell'interesse dell'Italia poter contare su funzionari che hanno grande competenza, che hanno grande professionalità, che arrivano da una grande nazione europea e occidentale, una nazione fondatrice dell'Unione Europea e della Nato che sono animati da un forte senso di lealtà e di appartenenza verso l'istituzione, l'organizzazione dove prestano servizio e verso l'Italia. E quindi confidando che questo evento diventi un appuntamento fisso, come dicevo, ma non solamente confidando sulla possibilità che avremo in altre occasioni come queste di incontrarci, io vi voglio salutare con un arrivederci. Sappiate che io, il governo italiano, le nostre rappresentanze, l'ambasciata sono, siamo al vostro fianco per un'Italia che possa essere sempre più autorevole, sempre più credibile e sempre più in grado in un tempo di tempesta di affrontare quella tempesta a testa alta. Grazie davvero, a presto. Grazie.